Ciao a tutti, buona giornata e quasi buon appetito dopo che avete visto la mia diretta. Erosi, parrucchieri Revolution, San Colombano all'Ambro, via Cesare Battisti al 20 barra 1. Prenditi del tempo. Allora, fai la mamma, viene fuori sempre questa scritta qua e io devo chiuderla. Fai la mamma, vai a lavorare e vai in palestra e porta i figli a calcio e vai in piscina e cucina, cucina a mezzogiorno e cucina alla sera e fai i mestieri, chi più ne ha più ne metta. E tu vai in giro con una testa indecente. Ormai non ti guarda più nessuno, nessuno ti fa più i complimenti. Prima te li facevano, adesso è un periodo che non te li fanno più. Sei stata sempre una persona a cui il capello è sempre stato al primo posto, li avevi sempre in ordine, ma ora un disastro. Vai in giro. Addirittura sembri Tom Hanks, vi ricordate il film Castway? Anche se lui era un uomo. Però l'idea c'è, no? Avete presente? Ha caduto su un'isola, è stato lì non so qua, ha i capelli trasandati. Ecco. Sembri Tom Hanks in Castway. Sono diventati indecenti, sono senza controllo. Non hai più il controllo della situazione dei tuoi capelli. Il capello è talmente disidratato. Lo sapete che la piscina, il cloro, nonostante vi mettiate la cuffia, un pochino entra. La palestra, sudi tantissimo in palestra. Il capello si disidrata, perde la luce, diventa talmente arido, che addirittura anche quando c'è il sole, il sole che vi batte sui capelli, neanche quello riesce a darvi più un minimo di lucentezza. Non puoi assolutamente continuare così e non puoi assolutamente ostinarti a mantenere il capello lungo. Una persona come te, così attiva, e poi alziti, porta i ragazzi a scuola, vai a lavorare, e poi torna a casa magari perché lavori magari vicino, per cui torni a casa a cucinare, e poi vuoi andare in palestra, e poi vuoi andare in piscina, e poi porta i figli, e vuoi fare 2.800 cose, in 12 ore della tua giornata non può permettersi di avere i capelli lunghi. Perché il capello lungo comunque va curato. Il capello lungo richiede più tempo. Se per asciugare un capello corto come il mio, adesso non andiamo all'eccesso, io ci metto esattamente 5 minuti, un capello lungo, minimo, minimo, ce ne vogliono 50, dovete attaccarci uno 0 al 5. Quindi se non avete il capello lungo, potete permettervi di avere il capello lungo. Non puoi perdere tempo, perché poi, non avendo tempo, li trascuri, li trascuri e vai in giro con una testa indecente. E non sei tu, non è la tua persona che vuole essere così. Tu sei una persona che hai sempre tenuto ai tuoi capelli. Devi tornare a quello che eri prima. A te che sei una donna attiva e hai poco tempo, ricordati che noi della Revolution possiamo aiutarti. Quindi, come? Ti facciamo una consulenza, ti spieghiamo quale taglio è indicato per te, accorciandotelo, valutando il tuo capello, valutando il tuo viso, ma soprattutto valutando il tuo tempo. Un taglio pratico che al mattino, 5 minuti del tuo tempo ti deve portare via, ma devi essere sempre in ordine e il tuo capello deve essere sempre bello e sano. Ricordati che un taglio adeguato a te e alle tue esigenze ti consente di fare una vita anche un pochino più frenetica e riuscire a fare mille cose, andare in palestra, andare in piscina e fare tante cose, ma essere sempre in ordine. Noi della Revolution ci permettiamo di dirti che noi possiamo darti tutto questo. contattaci 037-989-00, mi stava sfuggendo il numero di telefono, e noi riusciremo a darti il tempo che tu hai perso finora. Ora ti saluto, ci vediamo noi mercoledì della settimana prossima, anzi no, non ci vediamo mercoledì perché io non ci sono, vado in ferie, quindi ci vediamo tra 15 giorni e sarete in compagnia di Paolo. Ciao a tutti e buon appetito e buona giornata!